Forza Dove vi pare ragazzi Io direi insomma di startare col nostro video Allora ragazzi quindi siamo nel menu Come prima cosa quello che mi sembra diverso È la scelta delle modalità Infatti se vado su change Si apre una schermata completamente nuova In cui ci sono le modalità più popolari Tipo singolo, doppio, trio e squad Molto carino E poi si possono giocare anche stesso da qui Senza andare in creativa Tutte le altre modalità Cioè per esempio sta cosa che credo sia roba creata dalla community Molto molto carino Cioè io da qui posso avviare praticamente le box fights Oppure le zone war Fighissimo Così è tanta roba ragazzi Perché diventano quasi modalità ufficiali O comunque sponsorizzate proprio dai fake games Fighissimo Magari per chi non vuole giocare alla solita pubblica Non deve andare in creativa A cercare lobby vuote Può direttamente fare così Fighissimo E poi c'è anche la mia libreria Con tutte le mappe preferite che giochiamo assieme Quando siamo su Twitch Che cosa figa Comunque questa ottima cosa per quanto mi riguarda Nel time shop qualcosa di nuovo Vabbè solite cose Ah lo ha anche la skin di Willy Smith E poi tra l'altro hanno messo anche la skin per l'evento dell'NFCS Credo sia limitata però Ovviamente ragazzi se voi volete shoppare qualcosa Andate in basso a destra nella sezione supporto creatore Mettete il codice creatore porto come vedete qui a schermo Qui sopra Accettate Così diventate più figli e più forti E soprattutto da ora Nel acquisto che farete Mi farà ricevere una piccola percentuale E anche se l'avete già messo il codice Ragazzi mi raccomando Rimettetelo Perché Fortnite lo leva ogni 14 giorni Vabbè io non perderai altro tempo E andrei nella modalità solo Insomma Così cominciamo un attimo a vedere tutte le novità che hanno aggiunto Siamo finalmente in gioco La nostra carissima Recon Expert Con il nostro backpack Cactus Jack Non vedevo l'ora di tornare a giocare con voi qua A Fortnite ragazzi E bene Mi sto dirigendo In questa zona Anche se mi aspettavo che i cambiamenti alla mappa Fossero stati fatti a corni complex Dato che era la zona che più la community si aspettava Recivesse appunto aggiornamenti Invece è stata Slurpee Swamp Che è diventata Slurpee Swamp E in pratica una Slurpee Swamp Con il sindaco che non paga le bollette dell'acqua Perché in pratica è stata levata l'acqua E tutto intorno alla palude Quindi è diventata tipo fango e schifo E questo Basta Letteralmente Basta Figo Più o meno Cioè Meglio di niente Però forse è meglio di niente Dai cavolate a parte ragazzi Esploriamo un attimo la zona Anche perché io Sinceramente mi sono perso un bel po' di aggiornamenti Con tutte le cose vecchie e nuove Che hanno aggiunto Cioè non so niente Non conosco neanche tutte le armi Particolari che hanno aggiunto Tutte quelle aliene Perché mi sono perso troppa roba ragazzi Semplicemente Quindi non vedo l'ora di esplorarle assieme Specialmente perché tutti i nemici Sapranno benissimo come funzionano Io non ne avrò la più palida idea E loro mi trucideranno Che bello Non vedo l'ora ragazzi Vabbè Io non credo che si sia lanciato qualcuno Sinceramente qui Perché la vedo in una zona un po' troppo pulita No 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 Lasciami stare Non colpirmi Grazie Che bello Se potevo puntare al fatto Che nessuno mi avesse ancora sgamato È finita Eh buono fucile a pompa Dai Infatti raga come potete vedere Qui gli irrigatori Non buttano più acqua Cioè letteralmente Non stanno a pagare l'acqua Panico Perché fa questi rumori Lufo all'improvviso Uh Gente Bella per te Non può essere andato via quell'altro Scusate Quello che ho crackato Caro Potrei averti visto Insomma No Non so C'ho lo spasso Ma questo è falso Ma mi vuoi cantare una canzone Per caso Ma sei impazzito Brother Ne hai approfittato per scappare Che stupido che sono stato Tizio cosa voleva fare Bussandomi Trollarmi O farmi capire Che ce ne dovessimo andare Non l'ho capito Scusate Questo plasma cannon Come funziona E che è quello che ti spara Le bolle Incredibili Sì 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 Tu sei tipo l'arma Ma più forte del gioco Ah ma mi Ti prego Ma non si ricarica Pensavo si ricaricasse Ma no Che arma di impulso è Ah sta lì sopra E Ma Volendo posso far cadere tutti Con il cannone a plasma Ragazzi siete praticamente Attaccati a nulla Volevo giusto Comunicarvelo Wow Ciao Ma giusto perché sta anche uno Col cannone Che mi sta a mirare Guardate che non ve fa male Giuro Cioè tu perché lo fai Sei stato traccato Bravo Ne valeva la pena Te stai per i fatti tuoi E mi lasciavi stare Invece se sei dovuto far cantare la canzone Magari non mi ricordo più come si builda Però Insomma come si mira ancora ancora Magari Ma quasi quasi Ma io farei un colpo di così Bello carico Bello potente Secondo me qualche danno lo riusciamo a fare Dai Poveri Dai questo mi si cura però Oh no Non si cura Non si cura Non si cura Non si cura Bella Oh mi è andata bene Bella eliminato Spass Thank you Aiuto No No Perché stai a fare Sta cosa orrenda Fammi andare Fammi andare Oh Non me la piazza ragazzi Non me la sta piazzando Io non ci posso credere Cioè io ora devo morire Perché sto coso non me la piazza Ma stiamo scherzando Curami quanto vuoi ti do Cura Curami Curami Grazie Quanto ti sei preso 200 Quanto mi hai rubato Sei una rapina Mano armata Sei Bella fra Approfitto del compagno Che sta a mirare Giusto per dare un po' di fastidio Per come siamo messi Sembra dei collaborazionisti Praticamente Sicuramente Ma a me lo stiamo craccando in 3 Poverino quello Godo Un po' Traiardata però E tanto devo uscire Dai Solo che la kill Mo se la piglia lui Non vale No ragazzi Se la kill se la piglia il nemico Me incazzo Scusami caro Potresti smetterla ora No no ragazzi Ragazzi non scherzate No Dai c'ha meno ping lui Non vale Dai c'ha meno ping Palese raga Ma che cosa è successo Bravo Brava Brava mamma Bravissimo Ok ragazzi GG per noi Che vittoria cringe Vabbè ragazzi Che volete più di una vittoria Insomma Questo aggiornamento 17.50 All'ultimo della season 7 Secondo me ci sta In attesa ovviamente Della season 8 Ovviamente ragazzi Vi ricordo di iscrivervi al canale Nel caso in cui non l'abbiate fatto E soprattutto di attivare la campanellina Vi ricordo di seguirmi anche su Twitch Sul mio profilo ufficiale Forto The Gamer Perché ragazzi anche lì Streamiamo diversi giochi Quindi vi aspetto Che dirvi Noi ci becchiamo alla prossima Ciao